L'Italia si è qualificata per la finale di Toppa Davis, interzone, ai 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 ai, seppanatta che cerca di vitiare qualcuno, molto disdicevole. I suoi atteggiamenti lo fanno apparire antipatico con il suo tennis. Bertolucci, in parole povere, lei è così giovane, già così pigro. Da giocatore individuale siamo sempre arrivati all'appuntamento e siamo stati una squadra unita, forte, che si dica che c'erano le fazioni. Il romano, il ciuffo, l'altro filulano piemontese. Che è anche un po' forte malmino, rompibale. Mi ha mandato a quel paese. E lui può essere arrivato con me. Essere una squadra vuol dire questo. Molto fastidioso. Insopportabile. Insopportabile. Con bel bastardo. Io t'ammazzo. Parole sui giornali, ma la verità è che noi eravamo una squadra. Eravamo una squadra. Noi lo chiamavamo Baracura. Era come muro cinese, non sbagliava mai. In qualifica per la finalissima di Coppa Davis. Accesa polemica sull'incontro di Coppa Davis a Santiago fra Italia e Cile. Ci sono armi migliori delle racchette per abbattere le dittature. Intratteniamo regolari rapporti con il Cile. Perché è proprio panatta, non lo vogliamo esportare. Ci fu uno sdoganamento del tennis negli anni settantane. Vincere la Davis e giocare altre tre finali. Il macellaio, il postino, l'ammasciatore. Giocavano a tutti a tennis. Iberto Luciano liquidato. Campioni della racchetta. Autentici grandi campioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Grazie a tutti.